A Capo di Monte per la sezione osservatorio per il Campania Teatro Festival ha debuttato lo spettacolo Gemito, l'Artero Paz, scritto e diretto da Antimo Casertano sul palco insieme a Daniela Ioia, Luigi Credendino, Ciro, Curus, Giordano, Zangaro. Una vita tormentata e ossessionata dalla continua ricerca della perfezione e dal maniacale tentativo di lavorare non per la conquista del successo, ma per la conquista della verità. E' quella di Vincenzo Gemito, uno degli artisti napoletani più dimenticati di sempre. L'ossessione per il vero lo ha spinto persino verso la reclusione in manicomio avvenuta tra il 1886 e il 1888, prima di recludersi in casa per oltre 20 anni in modo volontario, una volta uscito. La volontà del regista è stata quella di realizzare uno spettacolo e di poterlo portare in scena non solo per ridare luce alla figura di Gemito, ma anche per esplorare la materia intima che muove un artista ponendo delle domande. Ha senso accettare i compromessi? Che senso ha intendere l'arte oggi, così come all'epoca per Vincenzo Gemito? Vincenzo Gemito è un tramite, è una miccia per parlare anche un po' della condizione che viviamo oggi. E' un po' anche quella la domanda che ci poniamo e che mi pongo oggi. Che senso ha fare arte oggi? Che senso ha lavorare d'arte? Questo, quindi è come dire, Vincenzo Gemito è un pretesto da cui parte poi una riflessione che è anche mia, molto personale.